Come in noto è stata doppietta per il Valdarno in seconda categoria, al Montevarchi si è unita infatti nel Valdarno Fiorentino l'Olimpia Palazzolo che ha trionfato nel Girone M. Un campionato sempre in testa, con la festa tenutasi proprio ieri nel locale Circolo per ringraziare gli sportivi del sostegno continuo. L'appuntamento dunque è alla prossima stagione, magari proprio come rivali dell'Aquila. È veramente un'annata sprendita, a dire poco, perché veramente quest'anno siamo partiti subito bene. Nelle prime giornate avevamo l'Afrio come antagonista, poi abbiamo riuscito a mettere là dietro e sono venute fuori le squadre di Mugello, soprattutto i Galliano, abbiamo lottato fino alla fine. Però veramente ci siamo meritati da grande questo campionato, essendo stati esclusi un paio di giornate, sempre in testa, sempre concentrati sul pezzo, con una determinazione e una voglia veramente da ammirare. Vincere è sempre chiaramente difficile, però la squadra era partita con questa ambizione di riscattare l'anno della retrocessione, per cui sono stati bravissimi, è stato un anno veramente bello. Il gruppo era un gruppo solido, un gruppo forte, con giocatori importanti, per cui chiaramente la vittoria è stata una conseguenza di tutto questo.